Questa è la storia di Elena, una giovane mamma che, grazie ad Abeo, ha donato il cordone umbilicale della sua piccola, dando una speranza di vita ad un bimbo malato. Trovare un donatore di cellule staminali emopoietiche è infatti l'unica speranza di guarigione per tanti piccoli pazienti affetti da gravi malattie del sangue. Diventando donatore, puoi salvare una vita. Scopri quanto è semplice. Grazie a tutti.